Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi, sono Lorenzo ed eccoci in nuovo video nel quale presento una nuova azione acquistata che mi auguro mi frutterà come da programma dividendi più anche diversi premi in opzione. Un bel saccoccio di dollari come potete vedere nella copertina dovrebbe quindi arrivare periodicamente nelle mie tasche, un'ottima operazione che potrebbe aiutarmi nel mio progetto di pensionamento anticipato, pensionamento a 50 anni. Spero che appreziate questo video, tanto studio alle spade perché ho chiaramente dovuto studiare l'azienda che ho acquistato e fatemelo sapere con un apprezzatissimo like e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi schiacciando sulla campanella per non perdervi anche i prossimi video. Vi anticipo che si tratta di un'azione molto particolare perché mi espongo al settore dell'oro. Nel frattempo magari provate a pensare che azione potrebbe essere, poi vediamo se ci avrete preso e alla fine magari fatemelo sapere nei commenti. Piccolo preambolo. Ovviamente parliamo di oro quindi ci vuole un piccolo preambolo. Harry Brown ha ideato il portafoglio permanente composto da quattro asset suddivisi in parti uguali. 25% viene investito nel mercato azionario, 25% in quello obbligazionario, 25% in oro e restante 25% in liquidità. Esistono tanti portafogli lesi, quello di Harry Brown è uno di questi. I vantaggi sarebbero costituiti dall'estrema semplicità nella comprensione e nella creazione di questo portafoglio, associata a una buona capacità di produrre risultati consistenti in qualsiasi ciclo economico. In momenti di crescita le azioni garantirebbero un ottimo rendimento, in momento di deflazione e le obbligazioni performerebbero bene, in momenti di inflazione l'oro assicurerebbe la giusta protezione e in momenti di recessione la liquidità permetterebbe quantomeno di salvaguardare il capitale. E proprio in un momento di inflazione, l'inflazione possiamo dire che ancora non si è scaricata totalmente sul prezzo dell'oro, anzi l'oro è rimasto sostanzialmente stabile nell'ultimo periodo. Tornando al nostro portafoglio permanente, una volta all'anno il portafoglio dovrebbe poi essere ribilanciato per riportare i pesi di ciascuno dei quattro asset al 25%. Ok, quindi la mia conclusione è che l'oro viene spesso snobbato e devo dire che anch'io non sono un grande amante di questa particolare asset class, ragione per cui ho valutato di inserire in qualche modo comunque questa particolare classe di investimento in portafoglio, ma non ho acquistato uno strumento che mi espone direttamente sulla commodity, ma sono andato attraverso un'azienda che estrae oro, un cosiddetto minatore, a volte qualcuno lo chiama minatore, a me fa un po' ridere, però visto che viene anche chiamato così, chiamiamolo così. Sono andato su Finviz, per chi non lo conoscesse, finviz.com ottimo screener per azioni, sono andato diciamo per identificare aziende che operano nel settore dell'oro, quindi ho scelto settore materiali di base, industrie gold, quindi oro, e ho scelto anche quelle che staccano un piccolo dividendo superiore all'1%, mi sono uscite 20 azioni, le potete vedere in questa lista, sono quasi tutte canadesi, alcune sudafricane, ce ne sono 4 americane e direi che per il resto siamo a posto così. Tra questi nomi possiamo riconoscere, direi quelli più famosi, Baric Gold, King Ross, Kirkland, Lake Gold, Royal Gold, Wheaton, Precious Metals e tanti tanti altri, magari se volete potete anche fermare un attimo questo video e andarvele a vedere bene, però erano tante, 20 sono tante come azioni, quindi ho deciso di fare un'ulteriore scrematura e mi sono concentrato su quelle con una maggiore capitalizzazione, perché comunque mi danno maggiore garanzia, magari una crescita tesa minore, perché sono meno growth, ma mi danno una maggiore sicurezza. Ne ho selezionate quindi 5, sono Anico Eagle, Mines, Baric Gold ancora, Kirkland, Lake Gold, Newmont Corporation e Wheaton Precious Metals. Graficamente hanno tutte un andamento abbastanza allineato nel breve termine, ma preferisco guardare in un lungo orizzonte temporale, quindi allunghiamolo fino al massimo possibile e torniamo agli anni 80. Possiamo vedere come Baric Gold abbia avuto una volatilità abbastanza ampia, ha raggiunto un guadagno partendo da 1980 addirittura anche dell'8000%, poi c'è stato un forte ripiegamento, possiamo dire che attualmente è comunque quella che ha performato meglio, con un rendimento in 40 anni del più 2891%, poi dovremmo aggiungerci i dividendi, chiaramente, poi abbiamo Wheaton con un più 1167%, abbiamo Anico Eagle con un più 751%, abbiamo Newmont Mining con un più 380% e Kirkland Lake Gold con un più 284%. Tutti i rendimenti chiaramente molto interessanti, soprattutto le prime tre che ho detto, però mi piace anche andare a vedere a un anno come si sono comportate, sono tutte negative. In particolare Anico Eagle con un meno 31%, Baric Gold un meno 23% e le restanti tre hanno avuto un rendimento negativo però più contenuto sotto al 10% come perdita, meno 6, meno 7, meno 9%. Andando a vedere altri fattori, valutando altri fattori, non per ultimo la possibilità di avere un rendimento aggiuntivo tramite le opzioni, ho deciso di investire in Baric Gold. Credo che alcuni di voi abbiano già visto magari anche un mio post su Instagram, parliamo proprio di Baric Gold e sì, è venuto il momento di comprarla. Vediamo cosa si dice su Wikipedia per capire di chi stiamo parlando. Baric Gold Corporation è una società mineraria che produce oro e rame con 16 siti operativi in 13 paesi, ha sede in Canada, a Toronto, in Ontario, ha operazioni minerari in Argentina, Canada, Cile, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Mali, Papua, Nuova Guinea, Arabia Saudita, Tanzania, Stati Uniti e Zambia. Nel 2019 ha prodotto 5,5 milioni di once d'oro, 432 milioni di libre di rame. Al 31 dicembre 2019 la società aveva 71 milioni di once di riserve aure comprovate e probabili. Baric ha raggiunto o battuto il consenso del mercato sui suoi risultati finanziari operativi per 11 trimestri consecutivi a partire dal terzo trimestre del 2021. Inoltre Baric era stata la più grande società di estrazione dell'oro al mondo fino a quando Newmont Corporation ha acquisito Gold Corp nel 2019. Andiamo a vedere anche graficamente come si sta comportando. Gold, ovvero Baric Gold, Gold è il ticker, nell'ultimo anno e abbiamo visto un andamento abbastanza negativo ma tutto sommato anche abbastanza laterale possiamo dire. Solitamente arrivata alla soglia di 17-18 dollari l'azione poi ha iniziato sempre a rimbalzare. Chiaramente non è una garanzia per il futuro però possiamo notare questa cosa ma dal punto di vista tecnico io non sono un esperto mi piace di più andare a vedere i fondamentali. Baric Gold ha le quotazioni attuali a un dividendo di circa il 2%, molto ben coperto. Infatti il payout è soltanto del 32%, quindi vuol dire che in sostanza ogni 100 dollari guadagnati dall'azienda 32 vengono distribuiti sotto forma di dividendo e gli altri vengono ottenuti nell'azienda per cercare di crescere. Quindi c'è anche ampio spazio in futuro per aumentare la distribuzione dei dividendi ma ricordiamo poi che, e lo spiego dopo, sono interessato anche perché offre ottime possibilità di lavorare in opzioni. Ancora il rapporto PE è di circa 15 punti quindi sicuramente meglio dello Standard & Poor's che possiamo prendere come riferimento e tutto sommato non è neanche un valore malvagio. Rapporto debito equity molto sotto controllo pari a 0,22 e molto interessante secondo me il beta estremamente basso di 0,34 e adesso ci torneremo sopra. Buoni anche il ROI con il 13,7% e un margine di profitto del 16,6% che comunque rende Baric Gold secondo me una buona azienda. Forse non eccezionale ma sicuramente buona direi. Parlavamo di beta. Il beta è in sostanza la correlazione con il resto del mercato. 0,34 è un valore molto basso quindi vuol dire che non c'è una grande correlazione con il mercato e andiamo a vedere infatti storicamente come si è comportato Baric Gold. Se noi confrontiamo la linea blu che è proprio l'andamento dell'azione negli ultimi 5 anni con la linea gialla che è lo Standard & Poor's possiamo vedere infatti come spesso si siano mossi un pochino in controtendenza quantomeno in maniera divergente. Possiamo vedere ad esempio nel prima parte del 2017 come lo Standard & Poor's si è cresciuto in maniera lineare ma in maniera abbastanza blanda. Invece Baric Gold era cresciuta molto molto velocemente. Poi lo Standard & Poor's ha continuato a crescere ma Baric Gold invece ha iniziato a scendere. Dopo una prima parte del 2017 molto buona ha iniziato a scendere fino quasi alla fine del 2018. A quel punto lo Standard & Poor's fine 2018 ha avuto un calo, lo vediamo qui, e invece Baric Gold è salita. Ha iniziato a salire, ha colmato il gap, l'ha fatto più o meno a metà del 2019, ecco qui il momento in cui colma il gap e supera lo Standard & Poor's, torna sotto e recupera proprio in ultimi giorni prima dello scoppio del Covid, crolla miseramente nel periodo pieno di pandemia ma nel giro di pochissimo ha un rimbalzo veramente eccezionale. Va ampiamente sopra lo Standard & Poor's, Standard & Poor's che continua a crescere fino ad oggi possiamo dire, tra alti e bassi ovviamente in maniera lineare ma in maniera molto continua. Invece Baric Gold a partire da fine 2020 inizia una discesa. Con la linea azzurra invece vediamo un ETF in vesco sul Physical Gold e possiamo vedere in realtà come l'andamento di Baric Gold e dell'ETF sul loro fisico sia un pochino più correlato. Quindi possiamo vedere giustamente come un'azione che investe in un'azienda mineraria sull'oro segue chiaramente il prezzo dell'oro. C'è molta più correlazione in questo caso. Parlavamo di azioni. Oltre al dividendo di Baric Gold che attualmente si aggira attorno al 2% con la tassazione che purtroppo di mezza il dividendo, netto possiamo dire, perché c'è il 25% canadese più il 26% italiano un totale del 44,5%. Oltre al dividendo dicevo ho anche la possibilità di ottenere un rendimento aggiuntivo vendendo opzioni call. Sotto questo punto di vista Baric Gold è un'azione molto redditizia, probabilmente in virtù della sua volatilità abbastanza elevata. Con le opzioni ho calcolato che potrei avere un rendimento aggiuntivo lordo stimabile tra il 6 e il 10% su base annua senza prendersi rischi eccessivi, ovvero senza caricarsi il rischio di dover perdere l'azione. Chiaramente se dovessi perdere l'azione perché andrebbe oltre il prezzo impostato da me sulla vendita della call lo farei solo nel caso guadagnassi sul prezzo dell'azione. Come funziona quindi in questo caso? Sotto il punto di vista dei dividendi Baric Gold, anzi, come funziona in questo caso? Vi faccio un esempio numerico. Io ho acquistato Baric Gold a un prezzo circa di 18 dollari per azione. Ho l'obiettivo di tenerla in portafoglio per godere dei dividendi e di comunque godere dei premi, delle opzioni call che vado a vendere. Quindi, acquistato Baric Gold, dico, mi tengo l'azione, vendo una call con scadenza fra un mese, con uno strike di 21 dollari. Quindi cosa vuol dire? Nel qual caso Baric Gold fra un mese valesse più di 21 dollari, magari 22-23 dollari, io sarei obbligato a vendere la mia azione a chi esercita l'opzione acquistata. Quindi sarei costretto a vendere a 21 Baric Gold. Però, nel frattempo, ho comunque incassato il premio per aver venduto la mia put. Non arriva a 21 dollari, resta sotto. Molto bene. Mi tengo l'azione in portafoglio e vendo nuovamente un'altra put. Chiaramente non venderò mai una put a un prezzo al di sotto dei 18 dollari, perché altrimenti sarei costretto a vendere a un prezzo inferiore al prezzo a cui ho acquistato l'azione. Spero di essere stato chiaro, altrimenti scrivetemi nei commenti. Dicevamo dei dividendi. Sotto il punto di vista dei dividendi, Baric Gold ha sempre cercato di gratificare i propri azionisti, anche se sembra, devo dire, che solo negli ultimi due-tre anni abbia trovato una stabilità nella distribuzione. Quindi sotto il punto di vista dei dividendi, lo andiamo a vedere adesso, non c'è una fortissima stabilità, ma comunque cercherò di compensare questa instabilità con la vendita di opzioni. Complessivamente conto di portare a casa magari un 5-6% netto di flusso tra dividendi e opzioni all'anno. E poi, chissà, se l'azione dovesse tornare a valori molto alti, potrei anche decidere magari di vendere e portare a casa, ma questo ci penseremo magari fra qualche anno. Parlavamo appunto dei dividendi. Come sono andati negli ultimi anni? Allora, possiamo vedere come dal 2019 l'azione abbia distribuito un dividendo trimestrale che è salito dai 4 centesimi ai 9 centesimi attuali per ogni trimestre. In passato era stato un pochino più irregolare, con i dividendi magari extra, anche abbastanza elevati, ma non c'era neanche una frequenza ben definita. Ho scaricato questa tabella da nasdaq.com. Rimango però fiducioso che nei mesi a venire rimanga la solidità dimostrata nella distribuzione negli ultimi periodi. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuta la presentazione di questa azione, io poi lo dico sempre, non si tratta di consigli per gli acquisti, in particolare Barric Gold. Abbiamo visto comunque che ha una volatilità abbastanza elevata e pertanto non è forse adatta a tutti i portafogli. Voi fate pure le vostre valutazioni e poi eventualmente ne possiamo parlare come sempre nei commenti. A questo video vi ricordo di mettere un like per sostenermi, per far crescere ulteriormente la community. Vi mando un saltone a tutti, a presto da Lorenzo e ciao!